Lieve aumento dei contagi nei comuni vesuviani. A Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino, sono quattro i nuovi casi di positività certificati. Sono invece due le guarigioni registrate. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagiati, con 85 attualmente positivi, di cui 11 ospedalizzati. Nel comune di Torre Annunziata si sono registrati due nuovi casi di contagio a fronte di 62 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta al 3,23%. Non si registrano guarigioni. Sono 39 dunque i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 49.513. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 22.375, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 27.138.